Nell'ambito della campagna Together for Cohesion abbiamo organizzato un webinar finale per condividere buone pratiche e raccomandazioni per comunicare la politica di coesione europea. Prima di approfondire gli aspetti pratici facciamo un passo indietro nel tempo. La politica di coesione europea definita nell'atto unico europeo del 1986 è fondamentale per la coesione economica e sociale dell'UE. Il suo obiettivo è ridurre la disparità tra le varie regioni e supportare l'evoluzione delle aree meno sviluppate. Nel corso degli anni centinaia di progetti hanno beneficiato degli investimenti dei programmi di politica regionale dell'UE. Alcuni dei vantaggi principali sono creazione di posti di lavoro, competitività delle imprese, crescita economica, sviluppo sostenibile, investimenti nei cambiamenti infrastrutturali e nel settore sanitario e miglioramenti della qualità della vita dei cittadini. In che modo la politica di coesione dell'UE aiuta i cittadini durante la crisi? Il denaro della politica di coesione che non è stato ancora assegnato è stato mobilitato nella lotta contro il covid-19 insieme al cofinanziamento nazionale attraverso la CRI dell'UE. Viene utilizzato per fornire apparecchiature e dispositivi medici, flusso monetario per le autorità, aiuto alle PMI, protezione per i più vulnerabili, sostegno ai settori vitali e flessibilità nell'uso dei fondi strutturali. E che dire del nuovo bilancio dell'UE? I finanziamenti per i programmi di coesione aumenteranno di 55 miliardi di euro. Il bilancio rivisto rafforza l'attenzione su un'Europa verde, digitale e sociale e sostiene settori come l'assistenza sanitaria, la cultura e il turismo, le PMI e la gioventù, che sono i più colpiti dalla crisi. Sensibilizzare alla politica di coesione dell'UE non è un compito facile. In primo luogo lo sceticismo ai discorsi populisti spesso accusano l'UE per i problemi regionali. Per questo motivo è molto importante mostrare tutti i vantaggi che l'UE offre ai cittadini degli stati membri. In secondo luogo, gli stati tendono ad appropriarsi dei benefici della politica di coesione, oscurando l'importanza dell'UE. Inoltre, vi è una crescente tendenza verso la recente centralizzazione con gli stati che tolgono il potere agli enti regionali. Tuttavia, le regioni e le città tendono ad avere una comprensione migliore dei modi di investire e di influenzare le proprie comunità. Infine, i finanziamenti della politica di coesione dell'UE possono essere facilmente stanziati per altri obiettivi. Questa insicurezza di bilancio può indebolire l'immagine della politica di coesione. Quindi, come trasmettere il messaggio? Quando si pianifica una campagna di comunicazione, si inizia sempre ponendosi le quattro seguenti domande. Cosa, chi, come e perché. E cosa vuoi dire il tuo pubblico? Secondo tutto, bisogna sapere chi è il tuo pubblico, chi vuoi parlare con. In un caso specifico, è un po' più complicato, perché è un generale pubblico, è praticamente tutti. Per la campagna, è molto meglio, se hai un più specifico audience, let's say, age, location, o gendere. È molto meglio, perché quindi lo sapete di sapere il tuo gruppo, e è meglio di targette con il tuo key messaggio. Come, meaning, what channels do you want to use, e what strategie do you want to take? Quando si comunica sulla politica di coesione europea, si affrontano delle sfide. Come superarle? Get to know your target group better and assess the level of knowledge. Before putting the communication material out, a press release, a key message, ask your loved ones, ask your family, ask your friends, who normally have much less information on the topic, if they understand what you're trying to say. Engage your target group in the campaign in the first place. So you can have an interview with some of the representatives of your target group to create some content with them directly. And it also brings kind of a personal touch to the campaign, put some emotions in it, to put emotion aside on the campaign. In this case, we were trying to do it by involving some sort of stories, how the projects supported from cohesion policy before, help the situations in the regions or change the situations in any way, so that there are some stories that people can better identify with. Our challenge is to try to involve citizens and bring Europe near to them, so as to shorten distance between European institutions and European citizens. It can be done by trying to explain in simple language how much European policies can become part of everyone's daily life. Another important thing to keep in mind is to build partnerships. They help all the partners to improve citizens to perform their rights and to ensure their representation. They create benefits for both sides, because our partnership was based on the solid joint commitment and understanding. We are all committed to joint learning. We learn from each other, from each other's values, from experiences and sharing and communicating. The partnership, sorry, connects individuals across function, location and organization and also creates space for learning, creativity, innovation, development and joint practices. Quando si applicano tutte le lezioni apprese, tenere sempre presente l'importanza di una comunicazione tempestiva, sapersi distinguere, essere attivi online. Quando si applicavano l da? Quando si applicano l da buona si supplement alle sen